I CIBUS è la manifestazione dell'agroalimentare per eccellenza. È stata pensata per mettere insieme i grandi produttori dell'agroindustria e quelli che sono genuina espressione delle tipicità dei tanti territori della nostra penisola. CIBUS celebra l'agroalimentare Made in Italy a Parma, dove resterà per dieci anni ancora dopo il rinnovo dell'intesa fra Federa Alimentare e Fiere di Parma. La presenza della regione Abruzzo è coordinata dal Centro Regionale Commercio Interno delle Camere di Commercio. 33 produttori presenti nel padiglione 8 del polo fieristico di Parma, città capitale dell'agroalimentare per essere sede, non lo dimentichiamo, dell'Authority Europea per la Sicurezza Alimentare. È una manifestazione che consente un contatto privilegiato con gli addetti ai lavori come buyers, distributori, importatori, che hanno incontrato i nostri produttori gettando le basi per future relazioni commerciali o per consolidare quelle già esistenti. Vino, liquori, formaggi, l'olio extravergine, le conserve, il miele, la pasta, i dolci, la pizza, i fiadoni, i confetti, il cioccolato all'olio extravergine. Un'infinità di prodotti è espressione della migliore produzione abruzzese e della ricerca che tante aziende conducono giorno dopo giorno per trovare nuove soluzioni, per conquistare nuovi clienti, nuovi mercati. All'ingresso del padiglione l'attenzione venne subito catturata dal logo dell'Abruzzo e si è rivelata davvero una felice collocazione. A curare lo spazio espositivo delle relazioni è stata Marcella Lalli del Centro Regionale Commercio Interno. All'ingresso del Centro Regionale Commercio Interno